No, noi non ce ne siamo dimenticati, siete qui a divertirvi per cercare di trasformare questa manifestazione, che è una manifestazione che è stata dedicata a Navalny, proprio per cercare di ricordare questa persona, di questa persona, vi saluto, intanto è inutile parlare con loro, era loro, era fare l'opposizione a Putin, solo che voi state trasformando una manifestazione di difesa della libertà e quant'altro in una manifestazione contro la Lega e questo denota la vostra incapacità di capire il momento.